Il cambio d'allenatore non sortisce effetti ed il Castrovilla rincappa nell'ennesima sconfitta stagionale, questa volta ad opera della Turris dell'ex Baratto. Il mai dimenticato poeta del gol premiato dai tifosi della curva con una targa in ricordo di emozioni legate ad un passato ormai lontano. Prima dell'inizio del match un minuto di silenzio per le vittime di Rigopiano e dei sei membri dell'equipaggio dell'elisoccorso. Poi pronti via e Castrovillari subito pericoloso con Ragosta che dal limite scarica un destro velenoso che lambisce il palo alla sinistra di Abagnale. Quattro minuti più tardi il Castrovillari guadagna un angolo. Dalla bandierina Miceli non riesce a dare forza al suo colpo di testa. Para facile a Bagnale. Al decimo si fa vedere la Turris dalle parti di voce. Morella raccoglie una corta respinta dalla difesa rossonera. Destro perentorio forse deviato da Miceli. La traversa salva il numero uno rossonero ormai battuto. Al ventunesimo pericolo in area rossonera. In prota riceve da Morella. Con una finta si porta il pallone sul sinistro. Tiro immediato a rientrare. Si distende Emanuele Voce e con la punta delle dita salva la sua porta. Al trentaseiesimo prova il Castrovillari a rendersi pericoloso con Simonetti. Il tiro dai venti metri del centrocampista rossonero non trova lo specchio della porta. Al trentanoesimo la Turris beneficia di un calcio di rigore per un fallo in area di Simonetti che ferma con un braccio il cross in mezzo di Variale. Dal dischetto Voce ipnotizza in prota e salva ancora una volta la sua porta. Poi più niente finisce il primo tempo sul risultato di 0 a 0. Il secondo tempo inizia con un brutto infortunio per il numero 7 Campano Morella che nel tentativo di anticipare voce gli frana addosso riportando la distorsione del ginocchio. Al dodicesimo pregevole azione degli ospiti l'asse in prota Variale De Rosa mette il numero 11 ospite nelle condizioni di tirare dall'interno dell'area rossonera. Per buona sorte dei padroni di casa Variale tira di poco alto sulla traversa. A sedicesimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo la Turris passa, dormita generale della difesa rossonera che lascia completamente da solo in aria il numero 6 di Girolamo che di interno destro di controbalzo trafigge voce. Doccia fredda per i rossoneri che accusano il colpo. Al ventiquattresimo il Castrovillari reclama un calcio di rigore per atterramento di Gaetani subentrato a scaglione. Lascio a voi l'interpretazione delle immagini. Al venticinquesimo ancora una pregevolazione della premiata ditta in prota Variale con quest'ultimo che scocca una potente volè di destro che finisce di pochissimo a lato. Al quarantottesimo il Castrovillari ha una buona occasione sul calcio di punizione da buona posizione. Sul pallone lo specialista Ragosta impegna a Bagnale che con uno scatto di reni si salva in calcio d'angolo. Finisce così con una sconfitta la prima di Di Maria che avrà molto da lavorare per trovare la quadra. Allora mister un'analisi di questa partita nel bene e nel male? L'analisi è molto semplice. Abbiamo fatto una partita che potevamo gestire meglio. Ci sono delle grosse pecche. Abbiamo sbagliato in tante cose ma questo era prevedibile. In due giorni cercare di risolvere tutti i problemi sembra difficile. Eravamo stati fortunati sul rigore che potevamo. Non abbiamo preso il gol. Poi il secondo tempo il gol che abbiamo preso credo che sia una caratteristica di questa squadra. Molta disattenta, come fatti il gol che abbiamo preso è su una palla dal limite dell'aria senza molte coperture. Per cui sono un po' arrabbiato perché volevo un atteggiamento diverso. Però questo è anche dovuto al periodo, alla tensione che hanno i ragazzi. Perciò nello stesso tempo sono molto tranquillo in che senso che sono convinto che alla fine la squadra può arrivare all'obiettivo. Però non pensare oggi che poter risolvere subito i problemi sarebbe stato da pazzi. Sapevo che poi abbiamo incontrato una buona squadra per cui che l'avevamo bene o male gestita bene. Non è che avevamo sofferto più di tanto. Purtroppo poi si è venuto a mancare anche Rubino dove avevo fatto il cambio. Per cui giocare poi in dieci sotto, inferiore a numerica, sotto il risultato diventava anche un po' più difficile. Però mi è piaciuto alla fine anche lo spirito voglioso dei ragazzi. In dieci hanno cercato di fare il tutto. Per cui sotto questo aspetto ci sono le basi per poter lavorare.